Procura di Chieti e Ispettorato del Lavoro hanno aperto due fascicoli di inchiesta paralleli sulla morte di Antonio Criscuolo, 47 anni, operaio edile napoletano sposato e padre di due figli, precipitato ieri pomeriggio mentre lavorava a 15 metri d'altezza su un'impalcatura di una palazzina in ristrutturazione in via Montecorno a Francavilla al Mare. La procura sta lavorando sulle testimonianze raccolte ieri dai carabinieri coordinati dal maresciallo Antonio Solimini ascoltando i colleghi di lavoro che in quel momento erano all'interno del cantiere con Criscuolo. Ma altri elementi utili alle indagini arriveranno dall'autopsia del corpo dell'operaio che con ogni probabilità nelle prossime ore sarà disposta dal pubblico ministero teatino Luciana Campo, titolare dell'inchiesta. Al vaglio dell'ispettorato del lavoro c'è anche e soprattutto il rispetto delle norme di sicurezza. Il cantiere è stato prima per l'ustrato e poi posto sotto sequestro mentre accanto al corpo senza vita dell'operaio erano ben visibili sia il caschetto che la corda di sicurezza. Gli altri operai presenti nel cantiere avrebbero raccontato ai carabinieri che Criscuolo poco prima del volo a lui fatale stava lavorando al posizionamento di un cavalletto al quinto piano della palazzina, cavalletto che prima di essere messo in sicurezza avrebbe ceduto facendo precipitare l'uomo nel vuoto morto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Al momento dell'incidente non c'erano altri testimoni né condomini all'interno dello stabile per lo più utilizzato dai proprietari come residenza per le vacanze estive perché a pochi metri dal mare. L'incidente è stata una fatalità o l'ennesima tragedia sul lavoro? E' questo l'interrogativo a cui dovranno rispondere gli investigatori.